Giganti, leggenda o realtà? La presenza di giganti sulla Terra è una questione che affascina l'uomo da secoli. Le leggende e i racconti di esseri umani di dimensioni spropositate sono presenti in tutte le culture del mondo, e spesso sono associati a eventi naturali, come terremoti o tsunami, o a fenomeni soprannaturali, come la magia o gli dèi. Nella Bibbia, ad esempio, si parla di giganti come Golia, sconfitto da Davide, e oggi, re dei Refei, che aveva un letto di nove cubiti per quattro. Anche nella mitologia greca e romana troviamo figure di giganti, come Anteo, figlio di Poseidone e Gea, e Tifone, padre di mostri come Echidna e Cerbero. Nel folclore europeo, i giganti sono spesso rappresentati come creature malvagie e distruttive, che vengono combattute da eroi coraggiosi. In Italia, ad esempio, troviamo le leggende di Mata e Grifone, due giganti che combatterono tra loro per il possesso di Messina, e di Orlando, che sconfisse il gigante Ferraguto. Nel corso del tempo, sono state fatte numerose scoperte archeologiche che hanno portato alla luce resti di scheletri di dimensioni eccezionali. In particolare, nel 1877, in una grotta in California, fu trovato uno scheletro alto circa 3 metri. Tuttavia, queste scoperte sono state spesso contestate dalla comunità scientifica, che le ritiene il risultato di fraudi o falsificazioni. In definitiva, la questione è se i giganti siano mai esistiti o meno rimane ancora aperta. Le prove a sostegno dell'esistenza dei giganti sono scarse e contraddittorie, e la comunità scientifica è concorde nel ritenere che si tratti di leggende o di fenomeni naturali spiegabili in modo razionale. Leggere tra le righe Nonostante le scarse prove a sostegno dell'esistenza dei giganti, è interessante notare come queste figure siano presenti in tutte le culture del mondo. Questo fatto suggerisce che la credenza nei giganti possa essere eradicata in qualche modo nel nostro immaginario collettivo. Una possibile spiegazione è che le leggende sui giganti siano una metafora per rappresentare forze naturali o eventi soprannaturali che l'uomo non è in grado di comprendere o controllare. Ad esempio, i terremoti o gli tsunami potrebbero essere stati interpretati come l'opera di esseri giganteschi, o la magia e gli dei potrebbero essere stati visti come manifestazioni del potere dei giganti. Inoltre, le leggende sui giganti potrebbero anche riflettere le nostre paure e desideri più profondi. I giganti, infatti, sono spesso rappresentati come creature potenti e pericolose, ma anche come figure affascinanti e misteriose. In questo senso, le leggende sui giganti potrebbero essere un modo per affrontare le nostre paure dell'ignoto e del diverso. In conclusione, la questione se i giganti siano mai esistiti o meno è una questione che probabilmente non troverà mai una risposta definitiva. Tuttavia, le leggende sui giganti sono un affascinante esempio di come l'immaginario collettivo umano sia in grado di plasmare la nostra visione del mondo. Grazie a tutti.